La presidente della provincia di Trieste, Maria Teresa Bassaporopat, ha presentato la donazione di opere che l'artista Bogdan Grom ha voluto destinare all'amministrazione provinciale giuliana. Si conclude così un ite iniziato nel 2010, anno in cui la provincia di Trieste aveva raccolto l'intenzione dell'artista, nato a De Vinci, Naprosecco e residente negli Stati Uniti, di lasciare parte delle sue opere al suo territorio d'origine. Il processo di definizione della donazione, ricordato da presidente, era stato avanzato in un incontro istituzionale l'8 novembre del 2010 alla presenza dell'artista, della famiglia, del consul sloveno di Trieste, del sindaco di Sgonico e del ministro del governo di Ljubljana per gli sloveni all'estero. In quell'occasione il maestro Grom aveva lasciato dall'ente, in attesa del più ampio processo di donazione, un carboncino su carta del 1989 in cui ha fatto seguito un disegno mattita da pastello del 2011. Nel corso dell'appuntamento che si è svolto in provincia, la presidente si è dichiarata molto soddisfatta per questa donazione. E ovviamente la provincia di Trieste, in occasione della personale realizzata nel 2011, quando appunto l'artista soggiornò in Italia a Trieste, dedicò al magazzino dell'idea dal 15 dicembre al 17 febbraio, una mostra con oltre 100 opere esposte e più di 3.000 visitatori. Grom ha riavviato l'idea di donazione con la provincia di Trieste. Complessivamente si tratta di un corpus di 25 opere, il cui valore complessivo è stimato in circa 124.000 euro.